dobbiamo eliminare baracca del caos in questo diciassettesimo capitolo della modalità storia di mortal kombat 1 col titolo caos sovrano e ancora una volta stiamo usando la versione femminile di sector caspita siamo andati avanti con sector non lo sapevo il tar katan deve essere eliminato togliamolo di mezzo alcuni ombattenti hanno le loro provocazioni finito iscrivetevi al canale mettete un mi piace